ciao a tutte in questa uggiosa giornata di luglio che quasi non ci si crede sono con voi per fare il video questo prodotto è buono ma ve l'ho già fatto questa questa tipologia di video cioè è un video sui prodotti ni cioè quei prodotti che hanno sia dei lati positivi ma anche delle magagne cioè delle cose che non mi convincono fino in fondo e allora iniziamo subito con il primo prodotto che è questo qui è lo shampoo delicato della vivi verde cop che come vedete è stato parecchio utilizzato e quindi sono verso la fine allora lati positivi di questo prodotto sono ovviamente gli ingredienti chiaramente perché è uno shampoo bio il costo basso perché adesso sinceramente non mi ricordo quanto l'ho pagato perché l'ho preso un bel po di tempo fa all'ipercop però non credo arriva a 63 euro il costo di questo di questo shampoo e sono 250 ml per cui questi sono sicuramente i lati positivi un altro lato positivo è che effettivamente come c'è scritto sull'etichetta è uno shampoo delicato quindi magari adatto anche per lavaggi frequenti la cosa che a me non convince del tutto è che per per far sì che i miei capelli diventino puliti e i capelli grassi con questo shampoo devo fare almeno due sciampate due lavate perché al solo al primo lavaggio i miei capelli ma non solo non vengono puliti ma praticamente non si crea neanche schiuma ed è l'unico shampoo bio con cui questo mi capita perché io ne ho usati altri sapete che sono assolutamente innamorata dello shampoo della saponaria salvia limone che anche quello è uno shampoo bio ma alla prima passata la prima sciampata fa tantissima schiuma e io sento di avere i capelli puliti con un solo lavaggio con questo qui invece il primo lavaggio è così optional diciamo nel senso che devo poi per forza procedere ad una seconda passata e di fatto quindi uso il doppio di di un altro shampoo insomma no di qualunque altro shampoo perché tutti gli altri che uso una passata è sufficiente io come vi dicevo i capelli grassi li lavo un giorno sì un giorno no quindi non è che io arrivi al lavaggio con i capelli sozzissimi cioè che non li lavo da una settimana no sono normalmente sporchi insomma non dipende sicuramente da quello perché vi dico è l'unico shampoo con cui mi capita che il primo lavaggio è inutile perché appunto schiuma non ne fa pulire non pulisce e quindi mi tocca procedere al secondo quindi così così secondo prodotto così così allora questo scrub ai burri vegetali burri vegetali e melissa della biofficina toscana questo prodotto qui l'ho trovato in una box non ho controllato il costo quindi non so quanto costi allora ho iniziato ad usarlo da poco ma non è che mi abbia fatto questa grande impressione nel senso che come scrub è poco scrabbante direi quasi per niente talmente delicato che non vi accorgete praticamente di fare uno scrub tra l'altro io ho iniziato ad usare questo avendo finito quello dell'equilibra quello rimodellante che avevo comprato al tigotale quello è molto 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 scrabbante io lo usavo infatti solo su cosce e glutei facevo un bel massaggio prima di sciacquarmi del tutto dalla doccia insomma prima di uscire dalla doccia mi scrabbavo anche il palmo della mano tanto era scrabbante la parte appunto levigante questo qui la prima volta che l'ho usato ho detto ma è uno scrub? ma davvero è uno scrub? cioè no cioè proprio ma no è delicatissimissimo cioè le particelle scrabbanti sono talmente sottili che secondo me sono fatte non so dalla farina forse veramente troppo troppo sottile e un'altra magagna è che la parte vi faccio vedere la parte burrosa e cremosa di questo scrub vediamo se riesco ad aprirlo eccolo qua è talmente ricca che vedete è proprio una crema è talmente ricca che io di solito cosa faccio? mi insapono con doccia schiuma passo lo scrub, sciacquo e poi esco dalla doccia con questo non è possibile assolutamente perché la parte appunto dicevo burrosa è talmente burrosa che vi ungete tutte quindi per forza di cose non si può scrubarsi e uscire dalla doccia perché rimarreste appiccicati all'accappatoio e completamente unti quindi non va bene nel senso va bene perché uscite dalla doccia che non vi serve la crema idratante questo è poco ma sicuro ma io devo procedere prima di uscire dalla doccia devo procedere ad un secondo lavaggio perché non è possibile uscire dalla doccia semplicemente sciacquandosi con l'acqua perché tra l'altro si diventa idrorepellenti è talmente burroso, è talmente unto che si diventa veramente idrorepellenti cioè l'acqua della doccia fa proprio le goccioline le goccioline separate sul vostro corpo assolutamente non si può è un prodotto che sicuramente va benissimo per le persone che hanno la pelle molto delicata e molto secca perché sicuramente è fatta da ingredienti nobili come tutti i prodotti della biofficina toscana è sicuramente molto molto nutriente quindi questi sono gli aspetti positivi ma sì, ecco diciamo che non è sicuramente il mio scrub ideale ecco per tutti i motivi che vi ho detto prima quindi altro prodotto che mi convince figli adesso ci sono tre prodotti unghiosi e smaltosi allora il primo è il famoso ormai barattolino leva smalto della Essence allora anche qui lati positivi costa poco, è facilmente reperibile ed è sicuramente comodo c'è poco da fare si presenta con la sua spugnettina che ha il buchino adesso non lo piego troppo perché sennò esce il solvente comunque ha il suo buchino nel mezzo nel mezzo della spugnetta poi infilate il dito ruotate un pochino e in poco tempo uno smalto non particolarmente difficile viene tolto qual è secondo me la magagna? le magagne veramente perché ne ho rilevate due le magagne sono che il solvente che c'è all'interno puzza da morire che bisogna dire la verità è una caratteristica che appartiene alla maggior parte dei solventi perché di solito non è che siano così profumati però veramente cioè quando lo apro per togliermi lo smalto devo veramente allontanarmi perché ha una puzza che non si resiste l'altra magagnetta è che quando io lo uso appunto ruoto il dito vado un po' su e giù per rimuovere tutto lo smalto esco e sul dito mi rimangono un sacco di bricioline di spugnetta e sulle dita poi vabbè che poi ci si lava le mani ok però rimane una specie di patina appiccicaticce un po' gommosa insomma è sicuramente comodo non dico di no però non è perfetto insomma questo prodotto c'è poco da fare altro prodotto che ha molte caratteristiche per essere perfetto ma purtroppo non lo è è questo famoso molto famoso in America Top Coat che è il Sesh Bit eccolo qui allora questa boccettina qui è quasi finita è passata la metà del suo utilizzo io ne ho comprate due questo Top Coat l'ho comprato su ebay questa è quasi intera allora lati positivi è molto lucido si asciuga molto in fretta come dice il nome Sesh Bit appunto vuol dire che si secca velocemente e questo è vero sono 14 ml per cui ce n'è anche tanto io l'ho comprato ancora l'anno scorso queste due boccettine l'ho comprata l'anno scorso su ebay e non mi ricordo quanto le ho pagate ma non tantissimo credo di aver pagato sui 15 dollari compresa la spedizione più o meno il problema di questo Top Coat qual è? che dopo un po' che si utilizza diventa sempre più pastoso sempre più denso e difficile da stendere e quindi bisogna per forza usare un diluente seconda cosa quando si asciuga si ritira quindi fa così e quindi voi lo stendete vi sembra bello omogeneo vi sembra di aver coperto tutta l'unghia eccetera in realtà non è proprio così perché se poco poco lasciate anche mezzo millimetro di smalto scoperto il giorno dopo vi ritrovate la crepa e soprattutto si scopre la punta proprio perché asciugando si fa questo effetto qui e quindi è come se come dire ritirasse a sé la superficie dello smalto scoprendo la punta appunto che è una cosa che io detesto quindi buono per certi versi terribile per altri consigliatemi un buon top coat per favore perché ne ho bisogno ultimo prodotto di cui vi parlo è questo set qui questo kit per la foil manico della Sia T che sapete ho preso in super occasione su Sephora con la promozione prezzi da urlo allora che cosa ha di buono allora di buono ha che questo smalto che è incluso nel kit è meraviglioso è un colore spaziale perfetto per l'estate e direi quasi fluo fa risaltare tantissimo la bronzatura si stende anche bene servono due passate comunque per avere un colore omogeneo però è molto bello io non avevo mai provato smalti della Sia T altro lato positivo sono i fogliettini perché questi fogliettini qua adesso non so se riuscirete a cogliere guardate l'effetto arcobaleno di questi qui sono meravigliosi e sono praticamente ogni foglietto ogni colore ha un nome e sarebbero praticamente questi qui vedete hanno l'effetto iridescente tipo olografico questi sono tutti i colori disponibili nella confezione e fin qui i lati positivi il lato negativo che è fondamentale per questo tipo di manicure è la colla io ho usato ho tentato di usare per la prima volta ieri sera questo kit ma come vedete non ce l'ho addosso io qui ho messo i nail patch della Kiko li ho messi stamattina così per emergenza proprio perché ho dovuto levare tutto nel senso che questa colla che all'inizio mi sembrava fare egregiamente la sua funzione in realtà non si è mai seccata non si è mai asciugata del tutto per cui stamattina mi sono ritrovata la manicure tutta rovinata perché andando a letto ovviamente rigirandomi tra cuscino lenzuola eccetera mi si è tutta rovinata la manicure avevo fatto un accent manicure in cui sul pollice e sull'anulare avevo praticamente ricoperto tutta l'unghia con uno di questi fogliettini qua come effetto effetto arcobaleno insomma effetto olografico che mi era piaciuto da mate ne ero entusiasta sulle altre unghie avevo fatto una specie di di french così un po' un po' sbiega un po' laterale e l'effetto mi era piaciuto tantissimo ma mi ero accorta quasi subito che i tempi d'asciugatura erano troppo lunghi ma in realtà questa colla questa qui che è inclusa nella confezione non si è mai asciugata del tutto mandando in malora tutta la manicure infatti stamattina ho dovuto levare tutto quindi non lo so ripeto è la prima volta che io mi cimento con questa manicure forse ho sbagliato qualcosa io ma le istruzioni mi sembravano abbastanza semplici ho anche visto qualche video tutorial su youtube per cui non mi sembrava una cosa così complicata riproverò e vi farò sapere e probabilmente proverò anche un altro tipo di colla per vedere se sono io che sono impedita o se è proprio questo prodotto che non va bene e quindi basta questi erano tutti i miei prodotti del momento vi faccio notare questi orecchini che secondo me sono meravigliosi che mi ha regalato Paola l'anno scorso li ha fatti lei questi qui sono realizzati con una pazienza infinita secondo me con semini di melone colorati bucherellati e fatti appunto così a cerchio i colori li ho scelti io e lei me li ha gentilmente omaggiati ancora l'anno scorso li porto d'estate perché secondo me sono colorati freschi ed estivi quindi grazie Paola e basta per oggi con i prodotti mi ho finito fatemi sapere aspetto come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video ciao